Rimozione di alcuni funzionari regionali politicamente arbitrarie o quantomeno discutibili. Ci sono i casi precedenti, vedi Mascitelli e Mancini, e ci sono quelli attuali, vedi la mancata riconferma di Angelo Muraglia, direttore sanitario dell'ASL Lanciano Vasto Chieti. Sono questi i temi della conferenza stampa convocata oggi in provincia a Chieti da Luciano D'Alfonso, deputato del Partito Democratico. Non convinto dalle nomine ad alto tasso di densità politica e di accompagnamento segnalatore alla regione Abruzzo. In altri tempi si sarebbe parlato di spoil system o raccomandazioni, ma il linguaggio di D'Alfonso è come sempre particolarmente creativo. Bersaglio, tutt'altro che nascosto e comunque evocato da Luciano D'Alfonso, è il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Si poteva tenere da conto che stavano scadendo gli anni e i tempi di lavoro di Muraglia, ma stava scadendo anche la legislatura e sarebbe stato più naturale, più costumato, più igienico portare a termine la legislatura portando a termine l'incarico a Muraglia, il quale nei fatti poteva avere una conferma con proroga prima del compimento del 65esimo anno di età. Il problema è che secondo me lui non si chiamava Dolfi, dopodiché noi stimiamo che mentre Dolfi viene sussunto, preso, sollevato dalla direzione ferroviaria, distaccandolo presso la segreteria del presidente, scopriamo che la direzione ferroviaria di Tua soffre perché un'importante perizia di variante che deve essere pensata, istruita, coperta finanziariamente e deliberata non viene assunta dalla giunta regionale da quattro anni a questa parte e non si fa la piastra logistica al servizio della Val di Sangro. Quindi abbiamo Dolfi che deve fare un grande carico di lavoro, che non viene messo nella condizione di fare il suo lavoro alla direzione ferroviaria perché va nelle vicinanze fiduciarie del presidente. E Muraglia che avrebbe avuto un po' di bisogno di fiducia del presidente, che non riesce ad imparare da Dolfi come si diventa figura fiduciaria per avere la conferma. Allora io vorrei che il presidente della regione non tratti mai più male i sindaci perché nessun presidente di regione ha mai trattato male un sindaco. Perché lo deve fare questo signore, capitato per caso in Abruzzo, che ha utilizzato una ventosità elettorale favorevole del suo partito di appartenenza? Perché non sa quanto è faticoso fare il sindaco, non conosce le questioni delle lontananze dai centri che a volte portano le città come vasto e i territori come quello del vastese. Allora la conferenza stampa di oggi serve per ricostruire educazione, restituire educazione e correttezza nei rapporti tra il presidente della regione e i sindaci di questa comunità.